Buongiorno da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea, streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ATV. In primo piano ovviamente le elezioni amministrative 2023, 15 comuni chiamati alle urne e urne che rimarranno aperte sino alle 15 odierne. E dalle 15 comincerà la nostra diretta elettorale di ATV Marche, una diretta elettorale che vi accompagnerà attraverso lo spoglio per raccontarvi chi saranno i sindaci eletti o eventualmente quali saranno i candidati a sindaco che si sfideranno al ballottaggio previsto il prossimo 28 e 29 maggio. Nel dettaglio infatti sono come abbiamo detto 15 i comuni al voto ma solo 4 di essi con una popolazione superiore a 15.000 abitanti potrà andare al secondo turno nel caso in cui nessuno dei candidati meglio supererà il 50% più 1 dei voti. Nella fattispecie il capoluogo di regione Ancona, unico capoluogo di regione in Italia ad andare al voto e poi Falconara, Porto Sant'Elpidio e Grotta Mare. Gli altri 11 comuni sono invece quelli di Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d'Alba, Ostravetere, Gagliole, Penna San Giovanni, San Ginesio, Altidona, Montegiorgio, Castel di Lama e Ripa Transone. Nel dettaglio il primo giorno alle 23 di ieri si è chiuso con un'affluenza alle 1 del 44%, un'affluenza più bassa del dato nazionale che è quello di 46 e 45%. Alla precedente tornata delle amministrative nel 2018 l'affluenza nelle Marche era stata del 59,98%, in pratica del 60%, con il voto concentrato però in un solo giorno. Invece questa volta, lo ripetiamo, anche oggi urne aperte sino alle 15 odierne. Dopodiché diretta elettorale su ATV Marche, canale 12, in streaming sul nostro sito etvmarche.it, sulla nostra app di ATV Marche e sulla nostra pagina Facebook di ATV Marche per raccontarvi e dunque per scoprire insieme a noi chi saranno appunto i sindaci eletti. La pagina della cronaca ora con la morte scoperta del papà di Pamela Mastropietro. La news la trovate pubblicata anche sul nostro sito etvmarche.it. è stato trovato ieri mattina senza vita nella sua casa di Roma Stefano Mastropietro, il padre di Pamela per l'appunto, la 18enne uccisa fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018 a Macerata. L'uomo aveva 44 anni, almeno tu ora puoi riabbracciarla. Vi mando un grandissimo abbraccio Angeli. Amore di mamma, cogli il tuo papà tra le braccia. Il messaggio di Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, che su Facebook ha dato l'addio all'ex marito. La pagina economica ora con il rapporto 2022 dell'economia marchigiana, un'economia focalizzata in particolare sulle imprese. Sentiamo. L'attività produttiva dell'industria manifatturiera è in crescita del 2,1% nel 2022. È uno dei dati confortanti che emerge dal trentesimo rapporto sull'industria marchigiana, presentato venerdì ad Ancona da Confindustria Marche e Intesa San Paolo, in collaborazione con Sace e Deloitte. In aumento dell'11,1% le spese per gli investimenti sostenuti dalle imprese, che tendono invece alla flessione, causa guerra e inflazione nell'anno corrente. Sul fronte della produzione, le variazioni superiori alla media nazionale sono state registrate per calzature, più 6,2%, e tessile e abbigliamento, più 5,8%, crescita per legno e mobile, più 1,8%, incalo l'alimentare, meno 0,5%. Le vendite sono aumentate del 3,3%, l'export manifatturiero ha segnato invece un più 4,8%. Secondo l'Istat, le marche sono cresciute più delle altre regioni per le esportazioni, più 82%, ma scorporando le vendite dei prodotti farmaceutici, più 481%, il dato è in linea con la media nazionale, dunque pari al più 19,8%. Il peso dell'export marchigiano sul totale italiano è salito dal 2,4% al 3,7%. L'industria marchigiana ha risposto molto bene alla situazione di grandi cambiamenti che abbiamo vissuto negli ultimi anni, quindi è un'economia regionale che ha tenuto, e soprattutto possiamo dire che l'industria marchigiana effettivamente è al centro, è il propulsore dell'intera economia. Anche per il 2023 i segnali sono moderatamente positivi, seppur riscontriamo un ralentamento rispetto a quello che è avvenuto lo scorso anno, ci sono chiaramente fattori esogeni che ancora colpiscono le imprese e quindi creano preoccupazioni, soprattutto per i mesi a venire, ma confidiamo che visto anche l'alto livello di investimenti in innovazioni, in ricerca e sviluppo, in digitalizzazione, tutto ciò porterà ad una crescita del nostro sistema economico nel medio e lungo periodo. Nell'anno scorso, nel 2022, abbiamo arrogato 735 milioni di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese della regione, di cui 170 milioni sono stati dedicati proprio alla sostenibilità. Innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, questi sono gli investimenti strategici e le imprese marchigiane sono molto consapevoli che per rimanere competitive e crescere nel mercato, questi sono asset principali su cui andare a investire. La pagina sportiva e i play-off di Serie C. L'Ancona vince nel finale con un calcio di rigore di Spagnoli in casa della Carrarese e accede alla fase nazionale dei play-off. Giovedì il confronto con il Lecco, gara di andata al Delconero, ritorno lunedì prossimo invece in Lombardia. Un rigore pesantissimo di Spagnoli nei minuti finali e l'Ancona vola alle fasi nazionali dei play-off. La truppa bianco-rossa sbanca 0-1 il Dei Marmi, la tana della Carrarese, e il sorteggio l'ha accoppiata con il Lecco, gara di andata giovedì 18 maggio al Delconero, ritorno in Lombardia lunedì 22 maggio. È un'Ancona convincente, quella vista nel primo tempo a Carrara, in cui i dori ci premono in maniera costante, senza però trovare il cazzotto in grado di mandare al tappeto i toscani, che ad onor del vero partono meglio, con due occasioni create a beneficio di Capello, che al settimo colpisce di controbalzo, trovando Perucchini pronto alla risposta, e al dodicesimo corregge di testa la traversone di Cicconi, senza però inquadrare il bersaglio. Poi i bianco-rossi prendono il sopravvento. Prima Martina, con due conclusioni imprecise, poi con Melchiorri, che ha le due chance più ghiotte, alzando troppo la mira al trentesimo, sul suggerimento di Simonetti. E poi al quarantesimo, sferando il palo, dopo aver deliziosamente superato in uscita Brezza con un morbido lob a seguito di una perfetta imbucata. Primo tempo che si chiude solo 0-0, e l'unico pallone entrato nel sacco al decimo minuto, cancellato dal fischio arbitrale, per un fuorigioco di Spagnoli, autore della rete. Nella ripresa si registra la stessa frenetica a partenza della Carrarese vista nei primi 45 minuti. Bosanai al cinquantatresimo ed Energia al cinquantottesimo bussano alla porta di Perucchini, che però è attento e risponde presente. Malancona regge su da freddo al settantesimo, sul guizzo di Capello innescato da Della Latta, che costringe ancora l'estremo difensore d'Orico a metterci una pezza, ma replica con Martina, che sfiora ancora una volta la rete decisiva. Donadel opta per una trazione anteriore nell'ultimo quarto d'ora. Dentro anche Petrella e Di Massimo ad Armanforte, a Spagnoli e Moretti. Nel forcing finale d'Orico a Dare, ma più che altro a metterci una mano, è Capello, sanguinoso fallo di mano in area che viene immediatamente ravvisato dall'arbitro, con le timide e poco convinte proteste dei toscani, superate dall'incredulità per l'ingenuità commessa. Dal dischetto Spagnoli buca la rete ed è 1-0. Poi la sofferenza con la Carrarese che si scaraventa in avanti alla ricerca del pari che la qualificherebbe, ma i biancorossi resistono e altri precifischi o festeggiano in una domenica da ricordare. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito e tvmarket.it e sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.